amici di fano tv benvenuti in questo approfondimento dedicato alla ballata dei gusci infranti segnatevi bene questo nome questo titolo di film perché questa sera ci parla si parla di cinema un cinema made in italy ma che dico made in italy un cinema made in marque benvenuto a simone riccioni grazie mille dell'invito benvenuto nel nostro canale 19 sei sbarcato insomma in questo tra l'altro il canale nuovo a presentare il tuo nuovo film ecco io farei un passo indietro perché sicuramente in tanti da casa che ci stanno guardando cominciano a chiedersi ma questo simone riccioni io già l'ho visto da qualche parte è una faccia che insomma non mi è nuova perché insomma simone non possiamo fare troppi nomi di pubblicità ma se dico svizzero no son marchigiano avete capito che l'omino che saliva nella montagna nello spot famosissimo è simone ma non solo ci sono tantissimi tantissimi spot tanti spot televisivi tanto cinema tra l'altro non so se vuoi citare qualche film dove partecipare i film più importanti sono stati universitari molto più che amici di federico moccia piuttosto che come bello far l'amore di fausto brizi insieme a fabio de luigi poi ho lavorato con gerry cala e poi i film invece nostri nel senso come saltano i pesci tiro libero la mia seconda volta che sono stati girati tutti quanti nelle marche sono marchigiano no come ho detto prima e sono contento di girare i film nelle mie belle marche ecco a proposito di televisione poi ritorniamo sempre al cinema anche fiction tv tra l'altro la fortunatissima fiction che ci aiuti abbiamo con noi alessio belli giusto se non ricordo male il fisioterapista di di che dio ci aiuti ecco questo è giusto per inquadrare simone insomma quello che ha fatto in tv ma soprattutto al cinema perché oltre a essere attore simone è un produttore sono un produttore nostrano da ormai sette anni perché ho deciso mi sono talmente tanto appassionato al dietro le quinte che ho detto di aprire una società di produzione aperta nelle marche nel maceratese con la quale abbiamo prodotto nel 2016 il primo film che è stato come saltano i pesci dove c'era la protagonista che era maria paola rosini una ragazza con un cromosoma in più quindi una storia secondo me molto bella dove questa ragazza con la sua semplicità riusciva a ricongiungere una famiglia tiro libero dove avevamo grandi attori come nancy brilli via giudizio antonio catania e via dicendo e tanti altri la mia seconda volta dove c'era luca ward quindi diciamo non ci siamo fatti mancare niente dei bellissimi cast e adesso siamo arrivati a questo quarto film perché tutti i tuoi film simone sono sempre legati anche un progetto particolare anche con le scuole vicino educando sì diciamo che ho aperto questa questa idea di fare cinema ed educazione nel senso che tutti i film che voglio fare voglio produrre via dicendo con l'infa crowd la mia società sono tutti film che voglio tocchino delle tematiche importanti delle tematiche dove uno si possa fare delle domande no il primo film c'era la disabilità di questa bambina poi i ragazzini sulla seggio la rotella e poi il tema sulla droga adesso questa tematica nuova che poi ne parleremo e l'idea è quella di avvicinare i ragazzi al cinema guardando qualcosa di bello con il quale si con i quali si possa anche avere un confronto cioè no a capire le nuove generazioni cosa hanno bisogno soprattutto quali sono gli interessi perché io sono convinto che l'arte sia bellezza e quindi se riusciamo a raccontare qualcosa di bello questa cosa può smuovere qualcosa i nostri cuori certo tra l'altro a proposito di tiro libero diciamo che è stato il film che qui ci siamo incontrati anche in sala quindi al di là di tutto del rapporto di lavoro con con simone c'è anche un'amicizia dietro quindi è bello vedere una passione nei giovani questo credo che sia il messaggio più importante che voglio lasciare anche ai nostri telespettatori perché spesso si dipingono sempre a questi giovani che fanno questi giovani che cosa stanno a fare i giovani sono anche quelli che diventano imprenditori che diventano produttori di film che non è un qualcosa di semplice soprattutto di questi tempi ma in generale comunque assoluto credo che non è tutto non è tutto rose e fiori però la soddisfazione di arrivare con una produzione di cinema indipendente credo che sia un qualcosa di emozionantissimo esatto importante ecco arriviamo alla ballata dei gusci infranti la domanda sorge spontanea si diceva una volta ecco l'idea di questo titolo e soprattutto l'idea di fondo di questo film allora questo film nasce da da un incontro con la regista federica biondi i vari sceneggiatori jonathan arpetti piuttosto che david miliozzi e la nostra amica elisabetta garbati insieme abbiamo deciso di creare questo film e era un momento abbastanza particolare perché era marzo 2021 quindi precisamente quando pandemia con e questo film è un film che parla di una tematica forte cinque anni fa c'è stato il terremoto cinque anni e mezzo fa ormai terremoto del 2016 delle nostre belle marche nel nostro centro italia e il titolo è la ballata lo spiego un attimo la ballata di gusci infranti e la ballata è la nostra tradizione nostri balli no gusci infranti sono le nostre case nostre certezze le nostre idee la nostra libertà basta pochissimo e possono essere distrutte è un film che parla anche di terremoto ma non parla solo di terremoto parla di emozioni parla di storia di vita di famiglie di incontri di amicizie poi c'è anche questo evento catastrofico dove i nostri protagonisti riusciranno a rimboccarsi le maniche perché c'è il terremoto ma questo terremoto non ha distrutto questi nostri fantastici quindi una storia di ripartenza una storia di speranza assolutamente si parla di terremoto perché comunque qualcosa che ha fatto parte che è il nostro che parla della nostra bisogna far finta di niente però magari partire da qua per parlare di speranza che è un messaggio di questi tempi importante bisogna parlare di speranza soprattutto in qualcosa di positivo assolutamente e soprattutto la voglia anche di ritornare al cinema io non vedo l'ora io non vedo l'ora perché sono dell'idea che il cinema abbia una magia che a casa sul divano non hai e quindi l'idea da produttore in questo caso e distributore di questo film è che io volessi proprio uscire al cinema tant'è che ho organizzato un sacco di anteprime in tutta Italia le maggiori sono nelle Marche perché giochi in casa il ciauscolo è molto buono quindi noi facciamo questa cosa e diciamo che l'idea è proprio quella di incontrare le persone cioè di essere presente di poter avere anche un confronto su un dibattito no e quindi inizieranno il 23 marzo ad Ancona le anteprime marchigiane sto parlando naturalmente il 23 marzo e finiremo il 3 di aprile se non sbaglio non vorrei sbagliare con me quindi toccheremo tutte le città perché faremo Ancona il 23 e Iesi poi faremo Tolentino il 24 e Matelica il 24 il 25 macerata e fermo il 26 Porto Sant'Elpidio il 27 Fano e Senigallia momento importantissimo e poi ci torneremo ecco a proposito di Regione Marche il ringraziamento va anche proprio alla Regione Marche che ha sostenuto il progetto e credo che sia qualcosa di importante anche perché nel film vediamo già anche degli scorci proprio già nella nella Locandina ci sono tante Marche ed è bello vedere queste location e credo che al cinema farà ancora tutto un altro effetto sono d'accordo noi abbiamo girato in posti meravigliosi perché abbiamo girato a Del Cito che viene chiamato soprannominato il Tibet delle Marche abbiamo girato a Canfaito nella faggeta più antica d'Europa abbiamo girato a Fiastra in questo lago meraviglioso mentre eravamo al santuario di Don Ugolino abbiamo girato sul balcone delle Marche a San Ginesio eravamo ad Amandola sotto i Monti Sibillini diciamo che abbiamo una natura dei posti e una bellezza abbiamo girato anche a Fano non possiamo dire dove ma abbiamo girato anche a Fano tra l'altro in un posto particolare che poi non possiamo svelare che cosa succederà nel film ma molto importante molto suggestivo molto suggestivo e quindi diciamo che le Marche ne fanno da padrone abbiamo veramente dei luoghi meravigliosi dovremmo riscoprirle molto di più queste Marche quindi marchigiani sosteneteci a farle scoprire ancora di più ecco ritorniamo al film ci sono tanti nomi in Locandina nomi importanti quindi parliamo anche di cast allora abbiamo la grandissima Lina Sastri Giorgio Colangeli che aveva già fatto con noi il film come saltano i pesci quindi il primo film poi abbiamo Caterina Sciula abbiamo Paolo Lavini abbiamo Milud Morad Ben Amara abbiamo Barbara Enrici abbiamo il bravissimo Samuele Sbrighi che tra l'altro lo troviamo anche nella Locandina tutti quanti diretti dalla nostra fantastica regista Federica Biondi ecco abbiamo anche però attori nostrani che conoscerete veramente molto bravi che ci hanno sostenuto e hanno fatto delle parti belle molto belle quindi al cinema si vedranno e ci sono anche dei vostri dei vostri ci sono anche dei vostri lo possiamo dire non diciamo in che vesti anzi facciamo un bel gioco con i nostri telespettatori andate a vedere dov'è Davide Cecchini fisicamente nel film perché è una comparsa è una comparsa però in un ruolo particolare e vediamo se se lo riconoscono non diciamo nient'altro non diciamo niente ok ecco scherzi a parte abbiamo citato Federica Biondi tra l'altro la salutiamo con le nostre telecamere un rapporto particolare mi piace anche poi la regia manderà in grafico una bella foto che avete pubblicato sponsorizzando insomma il film dove ci siete insieme due Federica stanchi in estate cotti completamente dal sole con delle parole particolari di Federica dice noi siamo due poli opposti io e Simone abbiamo creato una terza entità con questo film ecco spiegaci un po' questa cosa che è una cosa che mi ha colpito sì diciamo che io sono ho un'idea di cinema un pochino diversa da quella della regista di Federica ma questo non significa che la mia sia giusta o sbagliata anzi io sono convinto che qualcosa la diversità può diventare ricchezza e quindi le mie idee si sono andate a sommare l'idea della regista di Federica e abbiamo lottato tantissimo sulle nostre idee però alla fine abbiamo trovato un punto di incontro ecco io sono dell'idea che questo punto di incontro questo titolo questo film sia veramente qualcosa frutto di un dialogo frutto di un lavoro un grande lavoro insieme quindi apprezzo tantissimo avere un confronto apprezzo tantissimo una persona che magari non la vede come me la parte artistica però ci si possa parlare per poter arrivare a un punto di incontro penso sia la cosa più bella di tutte infatti questo film è venuto fuori è veramente un film corale corale sia da un punto di vista di cast perché sono quattro storie che si intrecciano tra loro dal nostro protagonista Samuele Sbrighi che parla con le rime di Dante Alighieri e da un'altra parte perché siamo riusciti a tirar fuori ciò che volevo io e ciò che desiderava lei quindi un percorso stimolante da entrambe le parti che ha portato qualcosa di particolare magari siete partiti con un'idea poi siete arrivati magari a fare qualcosa di più e delle volte si parte con un'idea di fondo e poi guarda Davide perfetto siamo partiti con un'idea e quest'idea è andata in corso d'opera abbiamo cambiato tante cose e io sono contento di aver cambiato tante mie idee e sono contento che anche Federica sia riuscita a avvicinarsi un pochino alle mie però siamo veramente diversi, differenti ma uniti è venuto fuori questo film di cui sono veramente orgoglioso ecco abbiamo parlato Simone di quattro storie se in breve senza svelare troppo perché naturalmente andremo in sala a vederlo ma capire un po' queste storie che si intrecciano se ci dai qualche spunto allora abbiamo la storia mia di Caterina Sciulla che siamo due ragazzi che stanno aspettando la nascita della propria bambina abbiamo Paola Lavini che è l'allevatrice che resta sola a dover allevare tutti quanti il proprio bestiame il sacerdote che viene un attimo aditato come quello diverso e poi abbiamo il drammaturgo e l'attrice che stanno mettendo in scena il loro ultimo spettacolo e queste famiglie, perché sono tutte famiglie, queste famiglie verranno un giorno catastroficamente toccate dal terremoto e da lì faremo vedere quello che capita, la forza di questa gente perché la cosa più importante è questa cioè io vengo, mio papà da Castelremondo, la casa dei miei nonni non c'è più ma è bello pensare che la gente sia rimasta lì e che si siano rimboccati le maniche per far rifiorire un tessuto sociale far rifiorire un briciolo di speranza in una terra abbastanza desolata in quel momento lì quindi questa è la cosa bella, questo messaggio di speranza cioè non è un film catastrofico, è un film di ripresa, è un film di novità, è un film di bellezza certo, come dicevamo, positività positività ecco, a proposito di film, andiamo a far vedere il teaser del film e poi ritorniamo ancora a parlare della ballata dei gusci infranti grazie a tutti grazie a tutti siamo tornati in studio ci siamo gustati questo teaser particolare, emozionale riprese particolari, ci siamo gustati un frammento di film ma poi in coda avremo modo anche di vedere il trailer e poi naturalmente verremo in sala a vedere la ballata dei gusci infranti ecco, a proposito di riprese, di backstage visto che mi piace spesso raccontare un po' il dietro le quinte di un film perché vediamo sempre, andiamo in sala a vedere il risultato finito ma è bello sentire così qualche aneddoto, qualcosa di simpatico non so se ti viene in mente qualcosa perché avete registrato, mi dicevi, da marzo 2021 a ottobre 2021 quindi è stato un arco temporale sì, perché abbiamo deciso di prendere momenti diciamo per una questione di luce differenti per una questione di organizzazione e c'è stato un momento molto divertente perché ci siamo trovati a Del Cito quindi a quasi mille metri d'altezza con un vento a, non so se non sbaglio, 80-90 nodi e mentre salivamo questa scarpata per andare a fare le scene abbiamo dovuto praticamente legarci addosso alla regista perché volava via stava volando stava volando via quindi è la magia del cinema è la magia del cinema abbiamo delle foto dove siamo così spingendoci in giù e il vento che ci tira su è una cosa incredibile è stato un momento abbastanza difficile perché abbiamo dovuto cambiare di volata di cambiare di volata l'organizzazione del set perché non riuscivamo a girare però è stato molto bello, molto divertente avete girato con tanti animali abbiamo girato con una fattoria piena di animali è stato bellissimo nessun animale è stato maltrattato questo lo voglio dire perché proprio nel loro ambiente eravamo noi con loro a casa loro e quindi stare in mezzo a ad esempio le mucche io sinceramente un attimo avevo paura invece questo allevatore era fantastico perché gli volevano tutti bene è una cosa incredibile gli animali sono meravigliosi quindi ci siamo divertiti un sacco bene 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 arriviamo quindi al dunque arriviamo al dunque visto che siamo a Fanno TV quindi parliamo un po' delle location più vicine delle anteprime perché è vero che dal 31 marzo uscirà in tutta Italia ma ci saranno delle anteprime nelle marche ecco particolarmente Fanno multiplex se giumetti di Fanno domenica 27 marzo quindi ormai ci siamo mancano pochi giorni ore 20.45 la ballata dei Cuscin Franti ma non solo anche a Senigallia sempre ore 20.45 con la presenza di Simone Riccioni della regista e di Samuele Sbridi sicuramente che sarebbe il famoso uomo della Locandina che sarebbe il famoso uomo della Locandina ecco quindi saranno presenti in sala prima del film a Senigallia giusto? e alla fine del film a Fanno poi voglio ricordare anche che ci sarà Pesaro quindi il 29 di marzo faremo Pesaro sempre al cinema Giumetti in multisala e poi voglio ricordare anche il cinema Gabbiano e il cinema Masetti di Fanno che saranno l'11 il cinema Gabbiano se non sbaglio e il 12 Masetti di Fanno l'11 il Masetti e il 12 il cinema Gabbiano perfetto è facilissimo però 11 aprile 12 aprile 11 aprile 12 aprile ecco quindi ci saranno parecchie occasioni più appuntamenti parecchie occasioni per venire a vedere e soprattutto per parlare anche con i protagonisti perché è bello andare al cinema ne parlavamo prima anche a telecamere spente ma la bellezza di finire un film e avere la possibilità di parlare con la regista con un attore con il produttore comunque per capire magari c'è un tipo di inquadrature un messaggio oppure avere subito una risonanza credo che sia importante anche per gli attori o per la regista stessa avere subito un impatto perché il cinema sostanzialmente uno ha sempre un po' molte aspettative non sa mai il pubblico poi se ha capito non ha recepito il messaggio qualcosa di difficile credo questo a differenza del teatro dove hai un impatto magari immediato certo no al cinema è forse un pochino più difficile diciamo che comunque è sempre difficile cercare di trasmettere un'emozione magari a me emoziona qualcosa a qualcun altro emoziona qualcos'altro penso che con quattro storie così differenti ognuno di noi si possa rispecchiare in qualche personaggio quindi quello quello penso di sì ecco ricordiamo che sono già aperte le prevendite quindi online si può andare a prenotare al cinema si possono andare a prenotare le prevendite al cinema perché quando mi dicono ma dove si possono prendere le prevendite al cinema semplicissimo si può fare tutto online in maniera semplicissima c'è la macellaio ci andiamo a prendere la carne certo no però al cinema perché giustamente al cinema ma questa è una domanda mi fanno spesso perché bisogna capire se devi andare al cinema o lo puoi prendere online si può prendere online oppure presentandosi direttamente al cinema quindi ci sono tutti i modi insomma non abbiamo scuse per non andare a vedere la ballata non avete scuse anche perché da Marchigiani questo è un film che veramente fa vedere dei posti unici e bisogna vederli al cinema bene io prima di mandare il trailer e quindi di concludere questo momento insieme a Simone vorrei così un bel video messaggio visto che Simone è un attore è abituato a guardare bene la camera adesso guarderà mi sto imbarazzando tantissimo guarderà così chi ci sta guardando da casa nel nostro canale di San Novo comodamente seduto nel suo tavolo oppure nel suo divano di casa ed è lì Simone vai con il tuo messaggio perché andare a vedere la ballata dei gusci infranti bisogna andare a vedere la ballata dei gusci infranti perché tocca il cuore e io sono convinto che entrerete con un'idea e uscirete con un'altra idea quindi io vi aspetto in sala e poi magari facciamo anche due chiacchiere grazie Simone e quindi come ho anticipato grazie naturalmente per essere venuto ospite qua nel nostro studio di Fano TV ci vediamo naturalmente al cinema e concludiamo questo approfondimento con il trailer della ballata dei gusci infranti Giacomo tutte le persone che incontri possono perdere qualcosa ho perso una cosa chiede a lui ho perso qualcosa lui ha perso qualcosa e lui ha perso qualcosa io sono Giacomo e vivo in un guscio di lumaca in mezzo alle montagne non so però se ci sono i pesci qua ciao amico mio dovresti venire tu sul palcoscenico con me in questo teatro c'è lo stesso odore da sempre però hanno tutti i sigari che ci ha fumato Dante dove sei? mi vedete in bellezza eh? io me ne sono andato via me ne la faccio più andiamo cambiare dovrebbe bene pure a te sai hai paura a me? nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era sbarrita io voglio andare da sto paese da questa casa certo da questo mondo ma dove vai? corri Teresa corri non lo so non lo so non lo so non guardarla non guardarla sirveno io ho dovuto imparare a non attaccarmi troppo alle case ho imparato a lasciarli andare sent pensare non lo so l'amuno no lui no non lo so si sai Grazie.